Mi dovete dire i migliori marcatori del ventunesimo secolo con la stessa squadra Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo è secondo con 450 gol con Real Madrid Giocherei l'altro Vai Messi Messi è primo con 672 gol col Barcellona Farei Totti Totti è sesto con 307 gol con la Roma Raul Potrebbe starci Raul 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 è quinto con 323 gol Andiamo con Lewandowski dai Lewandowski è quarto con 344 gol al Bayern Preferisci giocarti il bonus del Piero o il bonus Benzema? Ah è difficilissimo Effettivamente tutte le composizioni del Piero No dai mettiamo del Piero Alex Del Piero è settimo con 290 gol Dici che Benzema non è in top 10 Dai giochiamoci il bonus Benzema dai Benzema era il terzo Con 300 Io proprio No ero Chissà perché ero convinto che ne avessi segnati meno No no ne ha fatti 354 Runei No Veramente Provate Runei? Sì Volete saperlo? Sì Lasciate un mi piace qua Seguiteci Runei è in classifica Bravo Con 253 gol con 253 gol al Manchester United Immobile aspetta Lui ha fatto record Ha fatto primo marcatore Ci può stare dai Proviamo Secondo me potrebbe essere più di 250 Proviamo Immobile Proviamo dai Immobile non arriva a 253 gol Suarez Suarez? No Suarez non fa parte di questa classifica Bappé dice più di 250 No cavolo Vai giochiamocelo Terzo bonus Se ha già fatto 250 gol me ne vado Comunque inizia a essere 6 Vabbè dai giochiamoci il terzo bonus Bappé Il terzo bonus giocato No Ma come? Ci hai fregato così Salah No Scusa Jack Non è Salah Allora sono giocata Ultima vita Occhio eh Ah Kane Harry Kane vai Harry Kane Ho dimenticato Ho dimenticato È ottavo con 280 gol Vi manca solo l'ultimo Agüero Agüero Grande Jack Mamma mia Bella 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 Il nono con 260 gol Bravo Bravo Bravo